Buongiorno, ci troviamo in via Cascina all'Aquila, in pieno centro storico, dove intorno è tutto un affacendarsi di operai, cantieri e gru che stanno procedendo con la ricostruzione degli edifici. Alle nostre spalle però c'è stato segnalato una piccola grande anomalia, ovvero un palazzo nuovo appena ricostruito e ristrutturato, dove però nella giornata di ieri è caduto giù il pianerottolo di un balcone. Non si conoscono ancora le cause del crollo, ma soprattutto non si capisce quando verrà ricostruito questo pianerottolo del balcone. Sicuramente la ditta vorrà rimedio, ma la prima cosa che ci viene in mente è la rabbia dei residenti che a questo punto dovranno aspettare ancora ulteriore tempo prima di poter tornare nelle proprie abitazioni e riprendere il possesso del palazzo appena ricostruito, come vedete dall'immagine. All'Aquila, insomma, non ci sono solamente i balconi delle New Town a venire giù, anche se in quel caso la situazione è notevolmente più grave. Come è noto, nei mesi scorsi sono stati sgomberati 124 alloggi delle palazzine per i rischi collegati all'incolumità dei residenti e sulla stessa vicenda è aperta un'inchiesta dalla magistratura. Nel caso del palazzo di Via Cascina non c'è alcun residente da sgomberare, ma ciò che fa specie è il cedimento di una struttura appena ricostruita dove probabilmente qualcosa non ha funzionato nella ristrutturazione di un balcone, venuto giù per motivi ancora tutti da chiarire.